e allora andiamo a incominciare questa è la giacca bellissima con il collo bellissimo che sembra un fiore mi piace tantissimo guardate che meraviglia questi petali un'idea fantastica molto molto bella portata sulla maglia questa argentata che vi ho fatto vedere l'altra volta che è arrivata con la scorsa consegna e semplicemente su un jeans io adesso qui ho il jeans boy dell'autunno ma se il cuore ci fosse anche solo qualche grado in meno la porterei sicuramente così cioè con un bel jeans un po' stropicciato un po' largo, un po' strappato quindi un jeans un po' street abbinato appunto alla giacchettina bon ton romantica e devo dire che questa la variante di colore questo verde salvia io lo trovo elegantissimo e anche molto raffinato e sta bene con la carnagione cioè io sono abbastanza chiara e il discorso del verde salvia così inizialmente poteva lasciarmi un po' perplesso comunque insomma poteva spaventare un po' invece vedo che assolutamente non spegne non ingiallisce lascia la giusta luce al viso e insomma il modello è delizioso la manica è a tre quarti con lo spacchettino i bottoni sono in tinta con il logo Danny Rose come sempre la giacchina ha un'altezza che arriva sotto le anche direi all'attaccatura delle gambe e è veramente molto bella questa giacca in questa variante ho deciso di fare il completo come tagliere pantalone quindi arriverà anche il pantalone a uomo dello stesso tessuto nello stesso colore al momento ho lei a me piace tantissimo spezzare però mi è stata richiesta proprio in versione tagliere quindi insomma per chi vuole il tagliere si tratta di avere soltanto un pochettino di pazienza e arriverà anche il pantalone da abbinare